Buona giornata a tutti, vi presento Matteo dalle Marche, oggi è un'altra grande giornata, abbiamo Palermo e Marche, dimmi tutto, che mi dicevi? Stai in diretta? Sì, stiamo in diretta, è emozionato? Allora facciamo vedere subito il prodotto? Innanzitutto sei soddisfatto? Sì. Allora partiamo subito con recupero sensori di parcheggio anteriori, vi facciamo vedere. Ovviamente li possiamo anche disattivare, però adesso lo stiamo facendo vedere. Adesso inseriamo la retrocamera e andiamo a vedere quelli posteriori. Ecco qua, sono attivi. Poi un giorno che decidi di montare la retrocamera abbiamo anche le linee guide attive, va bene? Grazie. Allora, disattiviamo i sensori di parcheggio e andiamo in dimostrazione. Allora, offerta valida fino a fine mese, quindi sta scadendo, se volete lo bloccatevi, invio Liban 4,99 compresa installazione, un prodotto strepitoso. Android 8, andiamo subito nel dettaglio. Qui nessuna emozione, siamo tutti una famiglia, 50.000 persone, tutti una famiglia. Mettiamo il solito video 4K, ma un attimo per vedere la qualità video. E' accettabile? Bellissimo. Sempre con i comandi al volante cambiamo il video. Tutta natura oggi, super quark. Dividiamo lo schermo in due. Possiamo usare tutte le due app in contemporanea, ecco qua. Oppure facciamo partire Maps e YouTube. Questo invece è tutto il menu setup, perché il nostro cartablet Jeep Renegade vale per tutte le Jeep Renegade, qualsiasi optional, full optional. Ovviamente sono tutte impostazioni da eseguire. e sono molte. Abbiamo pure provato l'anticollisione, sei tu testimone? Sì. Quindi una cosa molto importante, abbiamo provato davanti al cliente l'anticollisione. Me lo confermi per favore? Sì, funziona perfetto. Perché io sono come San Tommaso, provare per credere. No, funziona. Ok, funziona. Detto dal cliente, eh. Allora, proviamo Google. Stefano Audio Elite. Ecco Audio. Pole position. Trovato subito. Adesso vi faccio vedere lo staff, che abbiamo una foto sul sito internet. Ecco qua, questo è un grande staff. Cosa manca? Abbiamo Via Voce Bluetooth, streaming musicale. Io ti ringrazio. Grazie a voi. Un saluto Palermo, Marche e tutta Italia. Grazie. Grazie. Grazie.